Furbo, il signor volpe, dirò al Tal. I tre fattori Nella vallata c'erano tre fattorie. I proprietari di queste fattorie avevano avuto successo nella vita. Erano ricchi, erano anche cattivi, ma tutti e tre non erano né più cattivi né più meschini di tanti altri. Si chiamavano Olio, Lupino e Pertica. Olio allevava polli, possedeva migliaia di polli. Era orribilmente grosso perché ogni giorno mangiava tre polli bolliti nella pentola a fuoco lento, con contorno di polpette a colazione, a pranzo e a cena. Lupino allevava oche e anatre. Ne aveva migliaia. Era una specie di nano panciuto, tanto piccolo che in una piscina per bambini l'acqua gli sarebbe arrivata al mento. Si nutriva di frittelle e di fegato d'oca. Schiacciava i fegati e imbottiva le frittelle con quella poltiglia disgustosa. Questo menù gli dava il mal di pancia e un pessimo carattere. Pertica possedeva tacchini e mele. Allevava migliaia di tacchini in un frutteto pieno di mele. Non mangiava mai, però beveva litri di sidro, molto forte, che distillava dalle mele del suo frutteto. Era magro come un chiodo ed era il più intelligente dei tre. Olio, Pertica, Lupino! Questi orribili compari sono diversi, ma sono pari in pazzia e malvagità. Così cantavano i ragazzi del vicinato quando li vedevano. Il signor Volpe In cima alla collina, sopra la vallata, c'era un bosco. Nel bosco c'era un grande albero. Sotto l'albero un grosso buco. Nel buco vivevano il signor Volpe, la signora Volpe e i loro quattro piccoli volpacchiotti. Ogni sera, non appena scendeva l'oscurità, il signor Volpe diceva a sua moglie Allora, cara, cosa vuoi che ti porti per cena? Un pollo grassoccio della fattoria di olio? Un'anatra o un'oca della fattoria di Lupino? O un bel tacchino della fattoria di Pertica? E quando la signora Volpe gli aveva detto quello che voleva, il signor Volpe sgattaiolava lungo la vallata, nella notte nera, e andava a prenderlo. Olio, Lupino e Pertica sapevano benissimo quel che accadeva e questo li rendeva folli di rabbia. Non erano tipi da dar via la loro roba, e meno ancora da essere derubati. Per questa ragione, ogni notte, ognuno imbracciava il fucile da caccia e si nascondeva in un angolo buio della propria fattoria, nella speranza di catturare il ladro. Ma il signor Volpe era troppo furbo per loro. Si avvicinava sempre a ogni fattoria con il muso rivolto contro vento, così da avvertire subito l'odore di chiunque fosse rimpiattato nell'ombra. Ad esempio, se Olio si nascondeva dietro il suo pollaio numero uno, il signor Volpe lo fiutava a una cinquantina di metri e, svelto, cambiava direzione, filando dritto dritto verso il pollaio numero quattro, al lato opposto della fattoria. «La peste se la prenda, quella sporca bestia!» urlava Olio. «Come vorrei tirargli fuori le budella!» diceva Lupino. «Uccidiamolo!» sbraitava Pertica. «Ma come?» chiese Olio. «Come diavolo la chiappiamo?» Pertica si mise un lungo dito nel naso. «A un piano!» disse. «I tuoi piani non hanno mai funzionato finora!» disse Lupino. «Zitto e ascolta!» disse Pertica. «Domani sera ci nasconderemo davanti alla trà della Volpe!» «Aspetteremo che esca!» «E allora...» «Pam! Pam! Pam!» «Molto astuto!» disse Lupino. «Però prima dobbiamo trovare la tana!» «Mio caro Lupino! L'ho già trovata!» disse quel furbo di Pertica. «È nel bosco, sulla collina, sotto un grande albero!» La fucilata «Allora, mia cara!» chiese papà Volpe. «Cosa vuoi per cena?» «Questa sera vada per l'anatra!» disse mamma Volpe. «Portaci due grasse anatre, una per te e per me, e una per i figli, per favore!» «E' anatrasia!» approvò papà Volpe. «Il meglio di Lupino!» «Sì, ma stai attento!» disse mamma Volpe. «Cara, posso annusare quei cretini a un chilometro di distanza?» disse papà Volpe. «Riesco a distinguerli dalla pozza. Olio emana odore ripugnante di pelle di pollo avariato. Lupino appesta l'aria di fegato d'oca e, quanto a Pertica, il tanfo di sidro lo circonda come una nube velenosa. «Stai attento lo stesso!» ripetè mamma Volpe. «Sai che ti aspettano al varco tutti e tre!» «Non preoccuparti per me!» disse papà Volpe. «A presto!» Il signor Volpe non sarebbe stato tanto baldanzoso se avesse saputo dove i tre fattori lo stavano aspettando. Si trovavano proprio davanti all'entrata della tana, ciascuno appostato dietro un albero con il fucile carico e, per di più, avevano scelto il nascondiglio in modo che il vento non soffiasse verso la tana, ma in senso contrario. Così non rischiavano di essere traditi dal loro odore. Il signor Volpe risalì il tunnel oscuro fino all'entrata della tana. Il suo bel musetto puntuto sbucò nella notte scura. Avanzò di pochi centimetri e si fermò. Fiutò un'altra volta. Era sempre particolarmente prudente quando usciva dalla sua tana. Avanzò di un altro centimetro. Ora era uscito quasi a metà. Il suo naso fremeva da ogni lato, annusando, fiutando il pericolo. Senza risultato. Nel momento stesso in cui stava per filare al trotto nel bosco, sentì, o credette di sentire, un piccolo rumore, come se qualcuno avesse mosso il piede, molto, molto leggermente, su un tappeto di foglie morte. Il signor Volpe si appiattì per terra e si immobilizzò, a orecchie dritte. Attese per un lungo momento, ma non sentì più niente. Deve essere un topo dei campi, disse fra sé, o un altro animaletto. Scivolò un altro po' fuori dal buco, poi ancora un poco. Era quasi del tutto fuori ora. Guardò attentamente attorno a sé un'ultima volta. In alto, nel cielo, brillava la luna. Allora, i suoi occhi penetranti, abituati alla notte, videro luccicare qualcosa dietro un albero, poco lontano. Era un riflesso di argente a luce lunare, che scintillava su una superficie lucida. Il signor Volpe l'osservò, immobile. Che diavolo poteva essere? Ora, quella cosa si muoveva. Quella cosa si alzava. Santo cielo! La canna di un fucile! Rapido come il lampo, il signor Volpe rientrò d'un balzo nel suo buco e nel medesimo istante si sarebbe detto che la foresta intera esplodesse attorno a lui. Pam, pam, pam. Pam, pam, pam. Pam, pam, pam. Il fumo di tre fucili si alzò nella notte. Olio, Lupino e Pertica uscirono da dietro i loro alberi e si avvicinarono al buco. L'abbiamo presa? domandò Pertica. Uno di essi rischierò la tana con la propria torcia elettrica e là, al suolo, nel cerchio della luce, metà dentro e metà fuori dal buco, giacevano i poveri resti dilaniati e insanguinati d'una coda di Volpe. Pertica la raccolse. Abbiamo la coda ma non la Volpe esclamò gettandola via. Accidenti, accidentaccio urlò Olio. Abbiamo sparato troppo tardi. Dovevamo sparare quando aveva messo fuori la testa. Certo non si affretterà a riprovarci disse Lupino. Pertica estrasse una bottiglia di sidro e beve a garganella. Poi disse La fame la farà uscire in tre giorni al massimo. Non voglio aspettare seduto senza far niente. Scaviamo e staniamola. Ah! Fece Olio. Questo è parlar giusto. La possiamo stanare in due ore. Sappiamo che è là. Deve esserci un'intera famiglia in quel buco disse Lupino. Allora li acchiapperemo tutti disse Pertica. Prendete i badili. I terribili badili In fondo alla tana mamma Volpe leccava teneramente il moncherino di coda di suo marito per fermare il sangue. Era la più bella coda nel raggio di molti chilometri disse tra due colpi di lingua. Mi fa male si lamentò papà Volpe. Lo so tesoro ma presto starai meglio. E la tua coda ricrescerà papà disse uno dei volpacchiotti. No mai più fece papà Volpe. Rimarrò senza coda per il resto dei miei giorni. Aveva l'aria molto infelice. Quella sera le volpi non avevano nulla da mangiare e presto i piccoli si addormentarono. Poi mamma Volpe li seguì. Papà Volpe invece non riusciva a dormire perché il suo moncone di coda gli faceva male. Ebbene dopo tutto pensava devo ritenermi fortunato di essere ancora vivo. Però ora che hanno scoperto il nostro buco occorre sloggiare al più presto. Non saremo tranquilli fino a quando che sta succedendo? Volse di scatto la testa e tese l'orecchio. Quello che sentiva in quel momento era il rumore più terribile che una volpe potesse ascoltare. Il ras ras raschio del badile che stava scavando il terreno. Svegliatevi gridò scavano ci stanno stanando mamma volpe si svegliò di colpo e si raddrizzò tutta tremante. Ne sei sicuro? mormorò sicuro sicurissimo ascolta uccideranno i miei piccoli esclamò mamma volpe mai disse papà volpe ma sì singhiozzò mamma volpe lo sai anche tu scrunch 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 facevano i badili sopra le loro teste dal soffitto cominciarono a cadere terra e sassolini ci vogliono uccidere perché mamma chiese uno dei volpacchiotti gli occhi neri sbarrati dal terrore con i cani mamma volpe si mise a singhiozzare prese i piccoli tra le braccia e li strinse a sé improvvisamente sopra di loro si udì uno scricchiolio spaventoso e la lama tagliente di un badile attraversò il soffitto questo orribile spettacolo sembrò scuotere papà volpe che fece un salto e gridò ci siamo sloggiamo non c'è un momento da perdere come mai non ci ho pensato prima pensato a cosa papà una volpe scava più veloce di un uomo urlò papà volpe cominciando a scavare nessuno al mondo scava veloce quanto una volpe papà volpe aveva iniziato a scavare a grande velocità con le zampe anteriori e dietro di lui la terra volteggiava vorticosamente mamma volpe e i quattro piccoli accorsero per aiutarlo più giù ordinò papà volpe dobbiamo scavare in profondità il più profondo possibile lungo sempre più lungo il tunnel avanzava discendeva a picco profondo sempre più profondo sotto la superficie della terra la mamma il papà e i quattro piccoli scavavano insieme le loro zampe anteriori si muovevano così velocemente che non si vedevano più e a poco a poco i rumori dei badili si fecero sempre più lontani un'ora dopo papà volpe interruppe lo scavo stop disse tutti si fermarono si volsero e alzarono gli occhi sulla lunga galleria che avevano scavato tutto era tranquillo uff esclamò papà volpe penso che ce l'abbiamo fatta non scenderanno mai fin qui bravi siete stati tutti molto bravi si sedettero senza fiato e mamma volpe disse ai suoi figli sappiate che senza vostro padre a quest'ora saremmo tutti morti papà è fantastico papà volpe guardò la sua sposa che gli sorrise quando gli parlava così l'amava più che mai le spaventose ruspe il mattino dopo alle var del sole olio lupino e pertica stavano ancora scavando avevano aperto una fossa così profonda che avrebbe potuto contenere una casa ma non erano ancora arrivati alla fine del tunnel erano molto stanchi e furiosi accidenti accidentaccio disse olio chi è che ha avuto questa dannata idea pertica rispose lupino tutti e due guardarono pertica pertica beve un sorso di sidro e ripose la fiasca senza offrirne agli altri ascoltate urlò furibondo io voglio questa volpe e l'avrò non mollerò fino a quando non sarà morta e appesa alla mia porta non riusciremo a prenderla scavando questo è sicuro disse olio sono stufo di scavare lupino il piccolo nano panciuto alzò gli occhi su pertica e chiese ne hai un'altra di queste trovate sceme cosa disse pertica non ti sento pertica non faceva mai il bagno e non si lavava neppure perciò le sue orecchie erano piene di ogni sorta di sporcizia cera cicche di chewing gum mosche morte e altre porcherie del genere così non ci sentiva un granché parla più forte disse al lupino che gli gridò qualche altra trovata scema con un dito sporco pertica si grattò dietro la nuca gli prudeva un furuncolo per questa faccenda disse abbiamo bisogno di macchine di ruspe con le ruspe staneremo la volpe in cinque minuti era un'idea abbastanza buona e gli altri due dovettero ammetterlo allora d'accordo disse pertica prendendo in mano la situazione olio tu resta qui e stai ben attento che la volpe non se la fili se cerca di fuggire spara subito lupino e io andiamo a prendere le macchine il grande magro pertica si allontanò seguito dal piccolo lupino che gli trotterellava dietro il grosso olio restò dov'era puntando il fucile sulla tana poco dopo due enormi ruspe nere una guidata da pertica l'altra da lupino arrivarono cigolando nel bosco sembravano mostri terribili e distruttori eccoci andiamo urlò pertica morte alla volpe incalzò lupino con uguale foga le macchine si misero al lavoro sulla collina strappando enormi bocconi di terra per prima cosa il grande albero sotto il quale il signor volpe aveva scavato la sua tana si abbattè come un birillo passi venivano scaraventati da ogni parte e gli alberi cadevano con un fracasso assortante ranicchiate sul fondo della loro galleria le volpi ascoltavano quei tuffi e schianti terribili sopra di loro cosa succede papà gridarono i volpacchiotti che cosa stanno facendo il signor volpe non sapeva né quello che succedeva né quello che gli uomini stavano facendo c'è il terremoto esclamò mamma volpe guardate disse uno dei volpacchiotti il nostro tunnel si è accorciato si vede la luce si volsero tutti e sì l'apertura del tunnel era ora a qualche metro e attraverso la fessura in pieno giorno scorsero le due enormi scavatrici nere quasi sopra di loro le ruspe esclamò papà volpe scavate a tutta forza anche voi scavate 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 la gara allora tra le volpi e le macchine cominciò una gara disperata all'inizio ecco a cosa somigliava la collina circa un'ora dopo che le ruspe ne avevano divorato la sommità ecco a cosa somigliava la collina talvolta le volpi guadagnavano un po' di terreno e gli scricchioli diventavano sempre più deboli papà volpe diceva ce la facciamo ma poi un attimo dopo le macchine tornavano su di loro e lo stridio delle potenti scavatrici diventava sempre più forte una volta le volpi videro perfino i denti accuminati della ruspa mentre stava per azzannare la terra proprio dietro di loro continuate ragazzi ansimava papà volpe non dobbiamo cedere continuate urlava il grosso olio al lupino e pertica stiamo per raggiungerla da un momento all'altro tu non la vedi domandò pertica non ancora gridò olio ma deve essere qui vicino la aggancerò per la pelle sbraitava lupino la farò a pezzettini ma all'ora del pranzo le macchine erano sempre là e anche le povere volpi ecco a cosa assomigliava ora la collina i fattori non si arrestarono nemmeno per il pranzo avevano troppa fretta di farla finita ehi là volpone urlava lupino sporgendosi dalla propria macchina veniamo a prenderti hai mangiato il tuo ultimo pollo gridava olio non verrai mai più a gironzolare intorno alla mia fattoria una sorta di follia si era impadronita dei tre uomini pertica il grande sacco d'ossa e lupino il nano panciuto guidavano le loro macchine come pazzi i motori ruggivano e le ruspe scavavano a tutta forza attorno a esse il grosso olio saltellava come un derviscio urlando più svelto più svelto alle cinque del pomeriggio ecco in quale stato si trovava la collina la fossa scavata era grande come il cratere di un vulcano era uno spettacolo così straordinario che la gente arrivava in folla dai villaggi vicini per vederla si metteva sull'orlo del cratere e guardava olio lupino e pertica sul fondo ehi là olio come va diamo la caccia a una volpe dovete essere matti la gente si burlava di loro e rideva ma tutto ciò non faceva che accrescere il furore e l'ostinazione dei tre fattori più decisi che mai a non arrendersi finché non avessero catturato la volpe non ci scapperà alle sei di sera pertica spense il motore della ruspa e scese dal posto di guida lupino fece lo stesso entrambi ne avevano abbastanza erano stanchi e sfiniti per aver scavato tutta la giornata e avevano anche fame lentamente si avvicinarono al piccolo tunnel in fondo al cratere pertica era rosso di collera lupino lanciò alla volpe insulti che non si possono ripetere olio si avvicinò a loro con la sua andatura da anatroccolo la peste colga quella sporca volpe puzzolente disse che diavolo facciamo adesso posso dirti quello che non facciamo di sicuro disse pertica non la lasceremo fuggire non non ci scapperà dichiarò lupino mai 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 urlò olio hai sentito volpe maledetta sbraitò pertica curvandosi e urlando nel buco non è che l'inizio rientreremo a casa nostra solo quando sarai morta e penzolante i tre uomini si strinsero la mano e fecero solenne giuramento di non tornare alla loro fattoria prima di aver acchiappato la volpe e ora che si fa domandò lupino il nano panciuto ti spederemo in fondo al tunnel per andare a cercarla disse pertica via nel buco miserabile mezzo uomo no io no gridò lupino prendendo la fuga pertica fece un sorrisetto quando sorrideva gli si vedevano le gengive rosse del resto si vedevano più le gengive che i denti non c'è che una sola cosa da fare disse lasciamola morire di fame accampiamoci qui giorno e notte per far la guardia al buco finirà per uscire dovrà pur farlo fu così che olio lupino e pertica fecero portare dalle loro fattorie tende sacchiappelo e cibo la grande fame delle volpi quella sera sulla collina tre tende furono piantate nel cratere attorno alla tana della volpe seduti davanti alle loro tende i tre fattori cenavano olio mangiò tre polli bolliti nella pentola a fuoco lento con polpette lupino sei frittelle ripiene della disgustosa poltiglia di fegato d'oca e pertica tracannò una decina di litri di sidro tutti e tre tenevano i loro fucili al fianco olio prese un pollo fumante e l'avvicinò all'entrata della tana signor volpe urlò lo senti questo pollo tenero e succulento perché non vieni a prenderlo l'appetitoso aroma del pollo discese fino al punto del tunnel dove erano ranicchiate le volpi oh papà disse uno dei volpacchiotti se uscissimo svelti a prenderlo non pensarci neppure disse mamma volpe è proprio quello che vogliono ma noi abbiamo tanta fame gridarono i volpacchiotti quando potremo aver qualcosa da rusicchiare la loro mamma non rispose né il loro papà non c'era nulla da rispondere scesa la notte Lupino e Pertica accesero i fari delle due scavatrici e rischiararono il foro ora disse Pertica veglieremo a turno uno farà la guardia mentre gli altri due dormiranno e così di seguito durante tutta la notte Olio domandò e se la volpe scava un'altra galleria nella collina ed esce da un'altra parte non hai pensato tu a una possibilità del genere certo che sì disse Pertica che non ci aveva pensato per niente allora forza che soluzione proponi Pertica tolse un po' di sporco dal suo orecchio e lo buttò via con un colpetto del dito quanti uomini lavorano nella tua fattoria chiese 35 rispose Olio io ne ho 36 aggiunse Lupino e io 37 disse Pertica in tutto sono 108 gli ordiniamo di circondare la collina ciascuno avrà un fucile e una torcia elettrica così ogni possibilità di fuga sarà eliminata gli ordini arrivarono dunque alle fattorie e quella notte 108 uomini accerchiarono strettamente la base della collina erano armati di bastoni di fucili di accette di pistole e di ogni sorta di armi spaventose il che rendeva praticamente impossibile ogni fuga per una volpe e di certo per qualsiasi animale il giorno dopo continuarono a sorvegliare e ad attendere Olio, Lupino e Pertica stavano seduti su piccoli sgabelli gli occhi fissi sulla tana i loro fucili sulle ginocchia non parlavano molto ogni tanto il signor Volpe scivolava fino all'entrata della galleria per fiutare poi rientrava e dichiarava sono sempre là ne sei sicuro chiedeva mamma Volpe sicuro sicurissimo diceva papà Volpe posso sentire quel briccone di Pertica a un chilometro di distanza ti appesta il signor Volpe ha un piano l'attesa continuò per tre giorni e per tre notti quanto tempo può restare una Volpe senza bere e senza mangiare chiese Olio il terzo giorno non molto tempo ancora rispose Pertica la fame e la sete la faranno uscire presto è sicuro Pertica aveva ragione nella galleria lentamente ma inesorabilmente le volpi morivano di fame se solo avessimo almeno una gocciolina d'acqua disse uno dei volpacchiotti oh papà non puoi fare qualcosa e se andassimo a cercarla papà una speranza di riuscita ci sarebbe non credi nessuna possibilità tagliò corto mamma Volpe rifiuto di lasciarvi salire per farvi sparare preferisco che moriate qui tranquillamente papà Volpe non parlava da molto tempo seduto immobile gli occhi chiusi non ascoltava nemmeno quanto dicevano gli altri mamma Volpe sapeva che tentava disperatamente di trovare una soluzione e ora ecco lo vede muoversi e alzarsi lentamente sulle zampe una fiammella gli danza negli occhi cosa c'è tesoro gli chiese con trepidazione mi frulla per la testa un'ideuzza rispose prudentemente papà Volpe quale esclamarono i piccoli dici papà dai fece mamma Volpe su parla ebbene disse papà Volpe poi si fermò sospirò scosse tristemente la testa e si risedette non è buona non funzionerà mai e perché papà? perché bisognerebbe scavare a lungo e nessuno di noi è abbastanza forte per farlo dopo tre giorni e tre notti senza mangiare sì papà siamo forti abbastanza gridarono i volpacchiotti papà Volpe guardò i quattro volpacchiotti e sorrise come sono bravi i miei ragazzi pensava non hanno mangiato nulla da tre giorni e non vogliono darsi per vinti non devo deluderli ebbene possiamo tentare disse andiamo papà dicci quello che dobbiamo fare lentamente mamma Volpe si alzò soffriva per la fame e per la sete più degli altri ed era molto indebolita sono desolata disse ma credo che non potrò essere di molto aiuto resta dove sei cara disse papà Volpe ce la caveremo da soli questa volta dobbiamo scavare in una direzione ben precisa disse papà Volpe indicando un angolo verso il basso i suoi quattro figli e lui stesso si rimisero dunque al lavoro scavavano ora più lentamente molto più lentamente ma pieni di coraggio e a poco a poco la galleria cominciò a ingrandirsi papà vorrei che ci dicessi dove andiamo disse uno dei figli non oso dirtelo rispose papà Volpe perché il luogo che spero di raggiungere è così meraviglioso che impazzireste se ve lo descrivessi però se non lo raggiungessimo cosa che è assai probabile rimarreste terribilmente delusi non voglio darvi troppe speranze ragazzi per molto tempo continuarono a scavare per quanto non lo seppero perché in quella galleria oscura non esisteva né giorno né notte alla fine papà Volpe diede l'ordine di fermarsi credo che faremmo meglio a dare un'occhiata sopra di noi ora per vedere dove siamo lo so dove dovremmo trovarci ma dire che ne sono proprio sicuro lentamente faticosamente le Volpi cominciarono a scavare verso la superficie su e su finché all'improvviso incapparono in qualcosa di duro sopra le loro teste che gli impediva di continuare papà Volpe si raddrizzò per vedere di cosa si trattasse è legno sussurrò tavole di legno e che vuol dire tutto ciò papà vuol dire mormorò papà Volpe a meno che io mi inganni completamente che dovremmo trovarci sotto la casa di qualcuno state tranquilli mentre vado a dare un'occhiata prudentemente il signor Volpe cominciò a spingere una delle tavole che scricchiolò in maniera spaventosa tutti si acquattarono temendo che sarebbe accaduto qualcosa di terribile ma non successe nulla allora il signor Volpe spinse un'altra tavola e poi molto molto prudentemente infilò la testa nell'apertura si lasciò sfuggire un grido di entusiasmo ce l'ho fatta urlò al primo colpo ce l'ho fatta ce l'ho fatta scivolò attraverso l'apertura e cominciò a battere le zampe e a danzare di gioia venite gridava venite a vedere dove siete ragazzi che spettacolo per una volpe affamata alleluia evviva evviva i quattro volpacchiotti si hissarono dalla galleria e quale meraviglioso spettacolo si presentò in quel momento ai loro occhi si trovavano in un grande capannone e tutti intorno l'ambiente rigurgitava di polli venerano di bianchi di bruni e di neri a migliaia il pollaio numero uno di olio diceva papà volpe esattamente dove volevo arrivare ho indovinato in pieno al primo colpo non è fantastico sono stato davvero bravissimo i volpacchiotti erano folli di entusiasmo si misero a correre in tutti i sensi cacciando i poveri polli aspettate ordinò papà volpe non perdete la testa fermatevi calmatevi facciamo le cose per bene prima di tutto bisogna bere così corsero verso l'abbeveratoio dei polli e bevero la deliziosa acqua fresca poi il signor volpe scelse tre polli tra i più grassi e in un batter d'occhio li uccise alla galleria ordinò andiamo niente stupidaggini più presto andremo prima si mangerà l'uno dopo l'altro si calarono nell'apertura del pavimento e presto si ritrovarono nell'oscura galleria il signor volpe rimise le tavole al loro posto molto accuratamente in modo che nessuno potesse accorgersi che erano state rimosse figliolo disse consegnando i tre grassi polli al più grande dei quattro volpacchiotti corri dalla mamma dille di preparare un festino dille che saremo di ritorno in un batter d'occhio non appena avremo sistemato qualche altra piccola faccenda una sorpresa per mamma volpe il volpacchiotto corse lungo la galleria con tutta la velocità delle sue quattro zampe reggendo i tre polli grassi era pazzo di gioia ah quando la mamma li vedrà pensava la strada era lunga ma lui non si arrestò una sola volta e arrivò correndo da mamma volpe mamma gridò senza fiato guarda mamma svegliati e guarda cosa ti porto mamma volpe più debole che mai per la fame aprì un occhio e vide i polli è un sogno mormorò e richiuse l'occhio non sogni mamma sono polli veri siamo salvi non moriremo di fame mamma volpe aprì i due occhi e si raddrizzò svelta ma mio caro piccolo esclamò dove diavolo nel pollaio numero uno di olio balbettò il volpacchiotto abbiamo scavato una galleria che ci sbocca esattamente sotto se tu vedessi tutte quelle belle pollastre grasse e papà ha detto di preparare un banchetto saranno presto tutti di ritorno la vista del cibo sembrò ridare forze a mamma volpe sì prepariamo un banchetto disse alzandosi tuo padre è veramente fantastico sbrigati piccolo mio e comincia a spennare questi polli lontano nella galleria il fantastico papà volpe diceva seconda tappa piccoli miei questo sarà un gioco da ragazzi tutto quello che dovremmo fare sarà scavare una piccola galleria da là a là fin dove papà non fate tante domande scavate il tasso papà volpe e gli altri suoi tre volpacchiotti scavavano in fretta e diritto davanti a sé erano troppo eccitati per sentire fame o fatica morivano dal ridere al pensiero che mentre sulla collina il grosso fattore aspettava che morissero di fame il pezzo forte del banchetto erano proprio i suoi polli continuate a scavare disse papà volpe ormai non è più molto lontano a un tratto sopra di loro una voce grave disse chi va là le volpi sussultarono alzarono gli occhi e vedero un lungo muso nero puntuto e peloso che spiava attraverso un foro del soffitto tasso gridò il signor volpe to mister volpe esclamò tasso mamma mia come sono contento di avere finalmente trovato qualcuno sto scavando in tondo da più di tre giorni e tre notti e non ho la più pallida idea di dove mi trovo tasso allargò il foro del soffitto e si lasciò cadere a fianco delle volpi piccolo tasso suo figlio si lasciò cadere a sua volta tu sei al corrente di quello che sta succedendo sulla collina disse tasso agitato il caos metà del bosco è sparita e ci sono uomini armati di fucili in tutta la campagna nessuno di noi può uscire nemmeno la notte finiremo per morire tutti di fame chi noi domandò il signor volpe noi noi scavatori io talpa coniglio le nostre mogli e i nostri figli perfino donnola è obbligata a nascondersi nel suo buco con la moglie e i piccoli cosa diavolo dobbiamo fare mister volpe credo che ormai siamo tutti spacciati il signor volpe guardò i suoi figli e sorrise i figli gli restituirono il sorriso con aria di complicità mio caro vecchio tasso disse tutto questo pasticcio è colpa mia lo so che è colpa tua esclamò tasso fuoribondo e i fattori non molleranno fino a quando non ti avranno preso disgraziatamente questo vuol dire che avranno anche noi tutti tasso si sedette e mise una zampa attorno al suo piccolo siamo perduti mormorò qui sopra la mia povera sposa è così debole che non può scavare un solo metro anche la mia disse il signor volpe ma a grado ciò in questo stesso momento sta preparando per me e per i miei figli il più succulento festino di polli paffuti e succulenti sta zitto urlò tasso non prendermi in giro non lo sopporto ma è vero gridarono i volpacchiotti papà non sta scherzando abbiamo un sacco di polli e poiché è tutta colpa mia disse il signor volpe vi invito a partecipare al banchetto invito tutti tu talpa coniglio donnola le vostre mogli e i vostri figli ci sarà da mangiare per tutti sul serio gridò tasso dici davvero il signor volpe avvicinò il muso a quello di tasso e bisbigliò con aria misteriosa sai da dove veniamo? da dove? dal pollaio numero uno di olio no sì ma non è niente al confronto del luogo dove andiamo ora tu sei venuto al momento giusto mio caro tasso puoi aiutarmi a scavare e il tuo piccolo non dovrà che correre da tua moglie e da tutti gli altri e portare la buona notizia il signor volpe si voltò verso piccolo tasso di loro che sono invitati al festino di volpe poi falli scendere tutti qui e seguite questa galleria fino a casa mia sì signor volpe disse piccolo tasso sì signore subito signore oh grazie signore si arrampicò svelto fino all'imboccatura del tunnel e scomparve il deposito gigante di lupino cosa ti è capitato alla coda vecchio mio non ne parliamo ti prego disse il signor volpe è un argomento penoso continuarono a scavare la nuova galleria in silenzio tasso era uno scavatore provetto e quando dava un colpo di zampa la galleria avanzava a pieno ritmo presto si ritrovarono sotto un altro assito il signor volpe sorrise con aria astuta mostrando i suoi denti bianchi e puntuti se non mi sono sbagliato caro tasso disse ora siamo sotto la fattoria che appartiene al lupino quel brutto nano panciuto in particolare sotto il posto più interessante di tutta la fattoria oh che anatre gridarono i volpacchiotti leccandosi i baffi anatre tenere e succose e oche belle grasse esattamente disse papà volpe ma come fai a sapere dove siamo disse tasso il sorriso del signor volpe si allargò ancora di più sui denti bianchi ascolta disse questa fattoria la raggiungerei anche a occhi chiusi per me sotto è come sopra si raddrizzò e spinse una tavola di legno poi un'altra infilò la testa attraverso l'apertura si urlò e con un salto fu nel locale ce l'ho fatta di nuovo dritto al bersaglio tasso e i tre volpacchiotti si precipitarono dietro di lui rimasero a occhi spalancati e a bocca aperta erano così felici che non riuscivano a parlare perché quel che vedevano ora era il sogno di ogni volpe di ogni tasso un paradiso per gli animali affamati questo mio caro tasso dichiarò il signor volpe è il deposito gigante di lupino tutte le sue scorte sono immagazzinate qui in attesa di partire per il mercato contro i quattro muri dell'immenso locale accatastati sugli scaffali e sui ripiani che partivano da terra fino al soffitto c'erano migliaia e migliaia di anatre e di oche tra le più belle e le più grasse già spennate e pronte per la cottura e sopra appesi al soffitto dovevano esserci almeno un centinaio di prosciutti affumicati e una cinquantina di pezzi di pancetta che gioia per gli occhi gridò il signor volpe saltando e danzando eh cosa ne dite mica male come bottino subito scattando come molle i tre volpacchiotti affamati e tasso che avrebbe mangiato un elefante si gettarono su quel cibo succulento fermi ordinò il signor volpe la festa la dirigo io perciò sarò io a scegliere gli altri indietreggiarono leccandosi i baffi il signor volpe fece il giro del deposito esaminando quella magnifica esposizione alimentare con occhi da intenditore un filo di saliva gli scivolava lungo la mascella non dobbiamo esagerare disse non sprechiamo l'occasione non devono sapere che siamo stati qui dobbiamo essere ordinati e attenti e non prendere che qualche assaggio oculato queste quattro anatre grosse per cominciare le prese da un ripiano oh come sono belle e grasse non c'è da meravigliarsi che lupino le venda così care al mercato molto bene tasso dammi una mano a tirarle giù anche voi ragazzi potete aiutarmi svelti santa pazienza avete proprio l'acquolina in bocca e ora sarà bene prendere qualche oca tre dovrebbero bastare prendiamo le più grasse oh signore non ci sono oche più belle nella cucina di un re piano ecco e che ne direste di due bei prosciutti affumicati adoro il prosciutto affumicato e tu tasso passami uno sgabello per favore il signor volpe salì sullo sgabello e porse tre prosciutti sontuosi e che ne dici della pancetta tasso io vado pazzo per la pancetta esclamò tasso danzando per l'eccitazione prendiamone un trancio quello grosso là in alto e delle carote papà disse il più piccolo dei tre volpacchiotti prendiamo qualche carota non dire sciocchezze lo sgridò papà volpe sai bene che non ne mangiamo mai non per noi papà ma per i conigli mangiano solo ortaggi perbacco hai ragione esclamò papà volpe pensi veramente a tutto piccolo mio prendiamo dieci mazzi di carote presto tutto il magnifico bottino fu accumulato per terra i volpacchiotti erano accovacciati di fianco il naso fremente gli occhi brillanti come stelle e ora disse il signor volpe prendiamo in prestito dal nostro amico lupino due di quelle carriole nell'angolo ci saranno molto utili tasso e volpe presero le carriole e vi caricarono oche anatri prosciutti pancetta e carote le fecero scendere attraverso l'apertura del pavimento si infilarono anch'essi nella galleria il signor volpe rimise le tavole dell'assito al loro posto ora ragazzi disse designando due dei tre volpacchiotti prendete una carriola per uno e correte dalla mamma ditele che le voglio bene e che abbiamo invitato i tassi le talpe i conigli e le donnole che deve essere veramente un festino grandioso e che ritorneremo a casa non appena avremo finito un altro lavoretto si papà subito papà risposero ognuno afferrò una carriola e i due sparirono nella galleria gli scrupoli di tasso ci rimane un altro luogo da visitare disse il signor volpe e io so qual è fece l'unico volpacchiotto rimasto era il più piccolo cioè domandò tasso beh disse il piccolo volpacchiotto siamo andati da olio e da lupino ma non da pertica deve essere lì proprio così a noi papà volpe ma non sai quale punto della casa visiteremo quale fecero insieme tasso e il più piccolo dei volpacchiotti ah ah esclamò il signor volpe aspettate e vedrete sempre parlando scavavano la galleria avanzava svelta a un tratto tasso domandò tutto ciò non ti preoccupa un pochino vecchio mio preoccuparmi disse il signor volpe perché tutto questo tutto questo è rubare il signor volpe smise di scavare e fissò tasso come se avesse completamente perso la testa cara vecchia befana pelosa urlò conosci tu una sola persona al mondo che non sgraffignerebbe qualche pollo se i suoi figli morissero di fame ci fu un breve silenzio nel corso del quale tasso riflette profondamente tu sei un po' troppo per bene disse il signor volpe non c'è niente di male a essere per bene protestò tasso ascolta disse il signor volpe olio lupino e pertica sono tutti lì appostati per ucciderci te ne rendi conto spero me ne rendo conto caro mister volpe me ne rendo ben conto rispose il buon tasso ma noi non scendiamo al loro livello noi non abbiamo nessuna intenzione di ucciderli certo che no rispose tasso una cosa del genere non ci passerà mai per la testa disse il signor volpe togliamo loro semplicemente un po' di cibo qua e là per sopravvivere noi e le nostre famiglie d'accordo penso che non abbiamo scelta disse tasso se loro vogliono essere dei mostri non possiamo farci niente disse il signor volpe noi qui sotto siamo brava gente pacifica tasso inclinò la testa e sorrisse al signor volpe mio caro mister volpe disse mi hai conquistato grazie e ora continuiamo a scavare cinque minuti dopo le zampe anteriori di tasso incontrarono qualcosa di piatto e duro diavolo di che si tratta esclamò all'aria di essere un solido muro di pietra ambe due grattarono la terra che lo ricopriva si trattava proprio di un muro ma era fatto di mattoni e non di pietra il muro si trovava proprio di fronte a loro bloccando la strada chi potrebbe aver avuto l'idea di costruire un muro sotto terra domandò tasso molto semplice disse il signor volpe è il muro di una stanza sotterranea e se non mi sbaglio è proprio quello che cerco la cantina segreta di pertica il signor volpe esaminò di nuovo il muro con attenzione vide che il cemento tra i mattoni era vecchio e si sgretolava così liberò un mattone senza troppa difficoltà e lo asportò all'improvviso dal buco spuntò un musetto puntuto e baffuto andate via squitti non potete entrare è privato santa pace gridò tasso topo hai una bella faccia tosta animale disse il signor volpe avrei dovuto immaginarlo che t'avrei incontrato prima o poi fuori urlava topo smammate questa è proprietà privata smettila disse il signor volpe no che non la smetto gridava topo è casa mia ci son venuto per primo il signor volpe fece un sorriso radioso i suoi denti scintillavano mio caro topo disse carezzevole io sono una volpe affamata e se non fili via a tutta velocità mi ti mangio in un boccone il discorso fece effetto il topo scomparve dalla loro vista in un batter d'occhio il signor volpe scoppiò a ridere e cominciò a togliere altri mattoni dal muro quando ebbe ingrandito il foro vi si introdusse seguito da tasso e dal volpacchiotto si trovarono in una vasta cantina umida e oscura eccoci disse il signor volpe che significa fece tasso qui è vuoto dove sono i tacchini domandò il volpacchiotto gli occhi spalancati nell'oscurità credevo che pertica allevasse tacchini ne alleva disse papà volpe ma a noi per ora non interessano abbiamo da mangiare in quantità sufficiente allora cosa cerchiamo papà guardati bene attorno vedi nulla che ti interessi tasso e il volpacchiotto scrutarono nella penombra quando i loro occhi si furono abituati all'oscurità quello che videro era un enorme assortimento di grandi orci di vetro disposti su dei ripiani contro i muri si avvicinarono si trattava proprio di orci ce n'erano a centinaia e su ciascuno si poteva leggere sidro il volpacchiotto fece un gran salto in aria oh papà gridò guarda cosa abbiamo trovato sidro esattamente disse papà volpe formidabile urlò tasso la cantina segreta di pertica disse il signor volpe ma fate attenzione amici miei niente rumore questa cantina è proprio sotto la fattoria il sidro fa particolarmente bene ai tassi disse tasso lo prendiamo come medicina un bicchiere grande tre volte al giorno ai pasti e un altro quando ci corichiamo questo trasformerà il banchetto in baldoria disse il signor volpe mentre parlavano il volpacchiotto aveva preso un orcio da un ripiano e ne aveva bevuto un sorso uh disse ansimando wow avete indovinato che non si trattava del solito sidro insipito e frizzante che si compra nei negozi era roba forte fatta in casa un liquore robusto che bruciava la gola e infiammava lo stomaco ah 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 faceva il volpacchiotto con il respiro mozzato questo sì che è sidro basta così disse papà volpe togliendogli l'orcio e portandolo alle sue labbra ingollò un formidabile sorso è miracoloso farfugliò cercando di ritrovare il fiato è favoloso è magnifico tocca a me ora disse tasso prendendo l'orcio e rovesciando indietro la testa il sidro gorgogliò e gli gloglottò per la gola eh è come oro fuso sussurrò oh caro mister volpe eh come bere raggi di sole e arcobaleni voi invadete il mio campo urrò topo mettetelo subito giù non ne rimarrà più per me topo era appollaiato sul più alto dei ripiani della cantina e li spiava da dietro un orcio enorme nel collo dell'orcio era inserito un piccolo tubo di gomma che topo usava per aspirare il sidro tu sei ubriaco disse il signor volpe fatti gli affari tuoi gridò topo grossi brutti ottusi se venite qui a far chiasso ci faremo catturare tutti filate e lasciatemi centellinare il mio sidro in pace in quel momento sentirono una voce di donna che urlava nella casa al di sopra della cantina sbricati ad andare a prendere il sidro Mabel diceva sai bene che il signor Pertica non ama aspettare soprattutto dopo aver passato tutta la notte sotto una tenda gli animali si agghiacciarono si immobilizzarono a orecchie ritte e corpi tesi poi sentirono il rumore di una porta che si apriva la porta era in alto su una scala di pietra che conduceva in cantina e ora qualcuno cominciava a scendere i gradini la terribile Mabel presto disse il signor Volpe nascondiamoci Tasso il Volpacchiotto e il signor Volpe balzarono su un ripiano e si nascosero dietro una fila di grossi orci di sidro sbirciando attraverso i recipienti videro una donna enorme che scendeva le scale giunta all'ultimo scalino si fermò guardando a destra e a sinistra poi si girò e si diresse verso il punto in cui si nascondevano gli animali si fermò proprio di fronte a loro la sola cosa che li separava era una fila di orci la donna era talmente vicina che il signor Volpe poteva sentire il suo respiro arrischiò un'occhiata tra due bottiglie e notò che la donna aveva in mano un grosso mattarello quanto ne vuole questa volta il signor Pertica urlò la donna e dall'alto delle scale l'altra voce rispose portali due o tre orci ieri ne ha votati quattro il signor Pertica sì ma non ne vuole tanto quanto ieri perché non rimarrà laggiù più di qualche ora dice che la Volpe uscirà sicuramente questa mattina non può restare un giorno di più in quel buco senza mangiare nella cantina la donna tese le braccia e sollevò un orcio non ne restava che uno solo tra lei e quello dietro al quale si nascondeva il signor Volpe non vedo l'ora che quella sporca bestia sia uccisa e appesa alla porta d'entrata gridò e a proposito il signor Pertica vostro marito mi ha promesso la coda come ricordo la coda l'hanno fatta a pezzi i pallini disse la voce proveniente da sopra non lo sai si è rovinata allora certo che si è rovinata hanno sparato sulla coda ma hanno mancato la Volpe oh che scalogna disse la grossa donna ci tenevo tanto a quella coda puoi avere la testa Mabel la fai impagliare e la sistemi al muro della tua camera però ora sbrigati con quel sidro si signora arrivo e prese un secondo orcio dal ripiano se ne prende un altro ci vede pensò il signor Volpe sentiva il corpo del Volpacchiotto stretto contro di lui teso e tremante saranno sufficienti due signora o devo portarne tre dio mio Mabel fa lo stesso purché ti sbrighi allora vada per due disse la grossa donna in tutti i modi beve sempre troppo portando un orcio in ciascuna mano e serrando il mattarello sotto il braccio attraversò la cantina in fondo alla scala guardò attorno a sé fiutando ci sono ancora topi qui signora li sento allora avvelenali donna avvelenali lo sai dove teniamo il veleno sì signora disse Mabel risalì la scala lentamente e scomparve la porta sbatté presto disse il signor Volpe prendete ciascuno un orcio e filiamo dopo seduto sul suo alto ripiano gridò cosa vi avevo detto per poco non vi siete fatti beccare eh per poco non avete rovinato tutto andatevene ora non voglio più vedervi qui in giro questa è casa mia tu disse il signor Volpe finirai avvelenato balle fece topo da qui vedo dove mette quella roba non mi avrà mai il signor Volpe Tasso e il Volpacchiotto presero un orcio ciascuno e attraversarono la cantina correndo salve topo salutarono sparendo attraverso il foro del muro grazie per questo sidro delizioso ladri urlò predoni banditi grassatori il banchetto tornati nella galleria si fermarono il signor Volpe richiuso il foro del muro borbottava da solo rimettendo i mattoni al loro posto che sidro favoloso ne sento ancora il sapore quel topo che sfrontato è anche maleducato disse Tasso come tutti i topi ma ha incontrato un topo signorile e beve troppo disse il signor Volpe sistemando l'ultimo mattone là ecco ora a casa per la festa presero i loro orci di sidro e si incamminarono il signor Volpe in testa seguito dal piccolo e poi da Tasso filavano lungo la galleria dopo la curva che conduce al deposito gigante di Lupino dopo il pollaio numero uno di olio e su per la lunga galleria verso casa dove la signora Volpe li aspettava avanti compagni urlava il signor Volpe ci siamo quasi pensate a quello che ci aspetta dall'altra parte pensate al nostro prezioso bottino questo farà felice la povera mamma Volpe mentre correva il signor Volpe intonò una canzoncina dolce casa dolce casa dove vive la mia sposa si sentirà più arzilla quando sarà un po' brilla di sidro strepitoso anche Tasso si mise a cantare dolce casa dolce casa dove vive la mia sposa è debole e affamata ma sarà rianimata dal sidro strepitoso cantavano ancora all'ultima curva quando piombarono sullo spettacolo più meraviglioso e stupefacente che mai avessero visto una grande sala da pranzo era stata scavata nella terra e in mezzo seduti attorno a una tavola enorme non c'erano meno di ventinove animali la signora volpe e tre volpacchiotti la signora tasso e tre piccoli tassi il signor talpa la signora talpa e le quattro piccole talpe il signor coniglio la signora coniglio e i cinque coniglietti il signor donnola la signora donnola e sei piccole donnole polli anatri oche lardo e prosciutto s'ammonticchiavano sul tavolo e tutti avevano già intaccato quei cibi deliziosi tesoro esclamò mamma volpe saltando al collo di papà volpe non ce la facevamo più ad aspettare perdonaci ti prego poi abbracciò il volpacchiotto la signora tasso abbracciò tasso e tutti si abbracciarono con grida di gioia vennero sistemati gli enormi orci di sidro sul tavolo e il signor volpe tasso e il volpacchiotto si sedettero con gli altri vi ricorderete senza dubbio che nessuno aveva mangiato una briciola da molti giorni avevano tutti una fame da lupi perciò per qualche minuto non sentì una parola si udiva solamente il rumore dei denti e delle mascelle degli animali intenti al pranzo succulento alla fine tasso si alzò e levò il bicchiere di sidro un brindisi a chi oggi ci ha salvato la vita a mister volpe a mister volpe gridarono in coro levando i bicchieri lunga vita a mister volpe allora la signora volpe si alzò timidamente sulle zampe e disse non voglio fare un discorso voglio solamente dire una cosa mio marito è fantastico tutti applaudirono e gridarono evviva poi si alzò il signor volpe questo pranzo delizioso cominciò nel silenzio che seguì fece un formidabile rutto ci furono risa e applausi questo pranzo delizioso amici miei continuò è graziosamente offerto dai signori olio lupino e pertica altri evviva e applausi e mi auguro che ve lo siate goduto tanto quanto me fece ancora un colossale rutto meglio fuori che dentro disse tasso grazie disse il signor volpe con un largo sorriso ma ora amici siamo seri pensiamo al domani al dopo domani e ai giorni che seguiranno se usciremo ci uccideranno giusto giusto approvarono ci uccideranno prima ancora che noi si faccia un passo disse tasso esattamente disse il signor volpe ma di grazia chi desidera uscire siamo tutti scavatori detestiamo l'esterno fuori è pieno di nemici usciamo solo perché siamo obbligati per cercare i viveri per la nostra famiglia ma ora amici miei ci organizzeremo in modo diverso siamo al riparo in una galleria che porta i tre migliori depositi del mondo sì è vero disse tasso io li ho visti e sapete cosa significa disse il signor volpe significa che nessuno di noi avrà più bisogno di uscire vi fu agitazione e qualche mormorio dell'uditorio dunque vi invito tutti continuò il signor volpe a restare qui con me per sempre per sempre gridarono ma è meraviglioso e papà coniglio disse a mamma coniglio mia cara pensa un po' non ci spareranno più addosso per tutta la nostra vita costruiremo un piccolo villaggio sotterraneo disse il signor volpe con strade e case indipendenti per i tassi le talpe i conigli le donnole e le volpi e ogni giorno io andrò a fare la spesa per voi e ogni giorno mangeremo come re gli evviva che seguirono questo discorso durarono diversi minuti stanno ancora aspettando olio lupino e pertica stavano seduti davanti alla tana della volpe a fianco delle loro tende con i fucili sulle ginocchia cominciava a piovere l'acqua colava goccia a goccia lungo i loro colli e nelle loro scarpe non mancherà molto tempo ancora disse olio la bestia deve essere ormai allo stremo disse lupino è vero disse pertica sicuramente dovrà uscire da un momento all'altro tenete il fucile a portata di mano seduti vicino al tunnel aspettavano aspettavano che la volpe uscisse e per quello che ne so stanno ancora aspettando a portata di la pagina aspettavano di